Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene. Buongiorno per tutto il giorno. Oggi celebriamo la festa della presentazione di Gesù al Tempio, la candelora, la festa della luce. Meditiamo il Vangelo di Luca capitolo 2 versetti 22 a 40. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio e mentre i genitori riportavano il bambino Gesù, per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche lì lo accorse tra le braccia e benedisse Dio dicendo, Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse, Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione e anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele della tribù di Azer. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Ecco, Maria e Giuseppe e il bambino si sono prescritti a quello che prevedeva la legge, cioè presentare il primo genito al tempio. Questa presentazione non è un fatto soltanto di portare o di prescriversi alla legge, ma Gesù va incontro al suo padre e al suo popolo, perché il tempio, luogo di Dio, il tempio, luogo dove il popolo si incontra per adorare, sacrificare, diciamo, gli animali e invocare il Signore. Dunque Gesù va incontro al suo padre e al suo popolo. Questa presentazione è anche un sacrificio, si parla del sacrificio. Invece di sacrificare l'essere umano, si sacrificavano gli animali e questo sacrificio avrà un senso profondo sulla croce. Sulla croce Gesù si sacrificherà per sempre. Non ci sarà più bisogno di sacrificare gli animali come si faceva nei tempi antichi. Luca ci ha parlato della purificazione però al plurale. La loro purificazione sembra si tratta di Maria, Giuseppe e Gesù, ma in realtà si tratta soltanto di Maria. Infatti la tradizione biblica ha corretto questa espressione perché secondo il capitolo 12 del libro del Levitico, la donna partorita è impura, dunque dovrebbe purificarsi prima di integrare la società. Allora questa purificazione al tempio non riguarda Giuseppe e Gesù, ma piuttosto è Maria perché aveva partorito. E poi contempliamo anche l'inno di Simeone. Simeone pronuncia una buona parola, ecco finalmente il Signore può lasciare il tuo servo riposarsi in pace perché ha visto la salvezza. Qui Simeone rappresenta tutto il popolo d'Israele, la sua espressione è quella di tutto un popolo. Finalmente Israele può riposarsi perché ha visto la salvezza. Questo inno è gioioso, ma anche dietro c'è un dolore e questo dolore si manifesta nella professia di Simeone ha a Maria anche a te una spada, trafiggerà l'anima. Ecco qui c'è anche il dolore per dire tutti quanti che seguiranno Cristo avranno questo dolore, subiranno questo dolore, dolore che ci porterà alla salvezza come Gesù dopo la morte è risorto. Ecco questo brano dunque ci invita a capire che Gesù si rivela al popolo, cioè Gesù si rivela non soltanto come gloria d'Israele ma anche la luce per le genti, per i pagani e qui troviamo l'universalità del messaggio del Signore, la sua missione è universale. Per dirci carissimi ecco Gesù Cristo si presenta anche a noi come luce, allora che questa luce rischiari la nostra coscienza tutto il nostro essere per essere vero, testimoni per essere vero e per noi per essere noi veri testimoni della sua parola e così potremo anche illuminare e rischiarare gli altri che sono ancora nel buio del peccato. Vi auguro una buona e santa giornata, Dio vi benedica sempre e buona festa.